ciao papà via via quando posso insomma comunque un paio di volte l'anno ci sono sempre e guarda caso sempre nei momenti più difficili per me rolando lezzi 1915 1979 un braccio un abbraccio un abbraccio ti ho sempre ti abbiamo sempre nel cuore ciao a di mai ora mamma fortunatamente ma non è stato un caso sono stato io che ho voluto che ci fosse questa avvicinanza diciamo cinque metri da una cappella all'altra sempre un bel sorriso alla mia mamma che bellissima donna che sei stata ma non soltanto fisicamente sei stata nel cuore nell'anima nel sorriso nell'aiuto libera formiti nei lezzi 1921 1998 potevi campare anche un po di più eri sempre una manna calata dal cielo un abbraccio amore sono andato prima di te sono andato a trovare il tuo amico il tuo marito io sono stato figlio unico io ho sempre fatto girare le scatole e me ne dolgo però in fondo in fondo in fondo ho sempre voluto bene diciamo forse non completamente come voi l'avete voluto a me ma comunque me ne ho voluto ho fatto tante marachelle tante di tante fulverie però in fondo al core io ho sempre avuto i miei genitori ne ho sempre parlato bene da tutte le parti ciao